E lui com'è? Educato, intenso, intelligente. Un po' mi ha imbarazzata. C'è una domanda che vorresti farmi e non hai fatto? Ha degli interessi al di fuori del lavoro? In parte sì. Sono anche tungente e cattivello. E con te non lo sono stato, non ne lo sarò. Non c'è molto da sapere su di me. Insomma, mi guardi. E io c'ho da fare, io ancora per te. A cosa deve il suo successo? Saranno famosi. Sarà molto noioso. Tanto, molto. Illuminami allora. Filma, sei pronta te? Nessuna regola. E niente più segreti. Infatti c'è una voce bellissima. Vuoi restare lì a fissarmi? Sì, 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 certo. Sicurati. Una mia precedente relazione l'avevo parcheggiata in un castello. Avevo pagato e non mi ero fatto più vedere. Mi hai guardato insistentemente e mi hai detto che ti ricordavo una tua ex fidanzata. Oh, no, no.